we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video vediamo di fare intanto la challenge quella delle delle cure ce la facciamo nel cil ci prendiamo i 17k nella cilla let's go ragazzoni let's go let's go dunque livello 100 praticamente siamo livello 141 allora armi abbastanza bad tra l'altro abbiamo l'altra sfida anche quella di raccogliere i lingotti non mi ricordo se cano stronzo ma si ci manca pende o medikit si usa pende o medikit posizione di top 10 facciamolo usiamo questo video questa medikit poi dentro in top 10 di prepotenza let's go ciao 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 bravo shooter bella questa kill non so quanta vita avesse questo ragazzi mi è andato lo porca banana andrei così e farai questo ce la facciamo ce la facciamo ragazzi ce la facciamo con calma con calma diamo andiamo 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 eliminazioni con fucili di precisione per 200 di gold minchia 200 di gold 200 di gold io non so se fosse un voto no quello sembra di sì tra voto sicuro questo rientra 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 il il trucco della carne è quello di la carne anche se la prendi a droppi anche se l'hai già preso una volta te la continuo a contare io abbia beccato il try harder la mattina cazzo try harder delle 9 piano 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 sono i tra i ardini raga tutto bastardo cazzo try harder e i 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 eccoli siamo figlio di andiamo non è male per avere sto cosa addosso piano 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 no no ma non non è detto che lo tolgo quando non mi toglie più vita non ti fa prendere anche full damage mi sembra non puoi avere gli ad shot guardano lì piano 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 l'ultimo fight sì 1v1 3 2 3 3 o prendi full damage altro che non lo prendi o prendi full damage o prendi full damage o prendi full damage o prendi full damage